Storie di vita, quelle che sono emerse dalle due ore di incontro, vivere dai immigrati a Caltanissetta, organizzato da Rotary Club, a cui hanno partecipato il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, Fabio Ruvolo, presidente responsabile della cooperativa sociale Etnos, Filippo Meritato, presidente del Movi e responsabile della Casa delle Culture e del Volontariato Letizia Ecolai Anni. Hanno partecipato più rappresentanti delle varie nazionalità ed etnie della città e il presidente del Rotary Club di Caltanissetta, Francesco Daina. Un momento di grande scambio culturale dove sono state le storie di uomini e di donne che hanno deciso di restare a Caltanissetta, chi per amore e chi per costruirsi un futuro. Vari le difficoltà dai documenti al lavoro al riuscire a trovare una casa fuori dal centro storico perché a Caltanissetta non si affitta agli stranieri, alla mancanza di un mediatore fisso in strutture importanti come l'ospedale. Al Rotary c'è un calendario rotariano che per il mese di febbraio prevede un tema preciso, costruire la pace per prevenire i conflitti. Ora noi crediamo fortemente che per costruire la pace e prevenire i conflitti in una comunità bisogna realizzare l'integrazione. Avendo colto quali sono le problematiche ora ci incontreremo periodicamente per monitorare la soluzione dei problemi e quindi tenere sotto controllo questa evoluzione che vogliamo fortemente ci sia a Caltanissetta. C'è poi chi ha imparato un mestiero, studiato la lingua, c'è chi ha messo a disposizione le proprie competenze per la comunità cittadina. Ci sono mediatori giovani che parlano fino a sei lingue, talentuosi sportivi o cantanti e anche donne che sono diventate madri qui e che vedono crescere serenamente i loro figli a Caltanissetta, la città che hanno scelto per il loro futuro. Scelgo Caltanissetta, è il mio slogan elettorale, perché io qua ci sono venuto, non sono nato a Caltanissetta. Quindi come sono venuto io da una città siciliana, loro sono arrivati da una città che sono molto lontane e molti di loro si sono integrati grazie anche all'accoglienza dei nisteni. Per cui sicuramente questa è una frontiera che dobbiamo comunque ancora coltivare e dobbiamo incrementare la possibilità di accogliere ma di integrare non solo l'accoglienza ma integrazione assolutamente all'interno della nostra società.